Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro come fare una torta vegana, velocissima, ai frutti di bosco. Premetto di dirvi che non sono vegano, ma spero di diventarlo in futuro, perché comunque è una cosa che vorrei assolutamente fare per vari motivi. Quindi ho messo in questa ciotola a sciogliere 100 g di zucchero in 250 ml di acqua tiepida, cioè non tiepida, a temperatura ambiente, e ho mescolato. Come vedete si sta sciogliendo lo zucchero, è quasi sciolto, ce n'è ancora un po', ma non vi preoccupate. Poi adesso ci andremo ad aggiungere 6 cucchiai di olio di oliva. Ecco qui gli ho aggiunti, quindi adesso continuiamo a mescolare. E adesso aggiungeremo il succo di mezzo limone. Ecco qui, una volta aggiunto il succo di mezzo limone, continuate a mescolare per cercare di incorporare il più possibile. E terminate aggiungendo mezza bustina di lievito e 230 g di farina 00. Ecco qui che ho aggiunto il lievito, adesso lo andrò a mescolare. Mi raccomando, quando aggiungete ogni ingrediente, sia liquido che secco, soprattutto se secco, usate il colino. Per quanto riguarda gli ingredienti liquidi dovete usare il colino solo per quanto riguarda il succo di limone, per non fare andare la polpa e i noccioli all'interno. Adesso vado ad aggiungere la farina e poi continuiamo. Come vedrete, per la farina, come vedete appunto da questa mia ripresa, dovranno essere circa 230 g. Ovviamente anche questa setacciata, quindi adesso andiamo a setacciare e la aggiungiamo. Ecco qui, una volta aggiunta anche la farina setacciata, che dovranno essere 230 g, ripeto, e anche il lievito setacciato, bisogna mescolare bene con la frusta, esattamente come ho fatto io. E setacciando, appunto, cercherete appunto di non far formare grumi, che appunto non si formeranno proprio per il fatto che avete setacciato tutto. Però voi continuate comunque a mescolare il composto fino a quando non raggiunge questa consistenza, che è fluida più o meno comunque. Adesso andremo ad aggiungere i frutti di bosco congelati. Ecco qui i frutti di bosco congelati, io ne ho aggiunti circa 200 g. Quindi niente, non ci resta che oliare comunque un po' la teglia da forno da 24 cm con un po' di olio di girasole. Adesso andremo a mettere la carta forna sopra. E niente, quindi io ho appunto posizionato il composto all'interno della tortiera con carta forno ogliata, come sapete. Adesso andrò a mettere dei frutti di bosco decorativi sopra e poi andiamo in forno. Ecco qui che è pronta la nostra torta vegana ai frutti di bosco. Adesso va in forno per circa 35-40 minuti a 180 gradi in forno statico, appunto nella teglia che ho usato, che è quella da 24 cm. Per il risultato andate sul mio profilo Instagram Axel. Ciao!